La ASL non proroga il contratto a 14 lavoratori addetti al servizio di assistenza alberghiera in ospedale e scoppia il putiferio. A denunciare il fatto le organizzazioni sindacali di CGL Cisle Will che in una nota affermano che l'ASL Teramo ha comunicato alle direzioni di presidio che non sarebbe stato prorogato il contratto ad una cooperativa teramana che assicurava fino al 31 marzo scorso il servizio di assistenza nei reparti degli ospedali di Giulianova e Santomero. La figura dell'operatore socio-sanitario si legge nella nota indispensabile per poter far fronte alle quotidiane esigenze di tipo alberghiero ed assistenziale al fine di poter assistere in maniera appropriata i pazienti ricoverati. Gli ospedali di Giulianova e Santomero hanno necessità di almeno 30 nuovi operatori socio-sanitari. È una gestione fatta con rasoio, commenta a caldo il sindaco di Giulianova Mastromauro che dopo aver appreso la notizia è sceso già sul piede di guerra. Da questa mattina reparti come medicina, lungodegenza, chirurgia, ortopedia, eccetera, sono senza personale con una media di circa 40 pazienti allettati per ogni reparto. La decisione presa dal direttore generale prosegue per i sindacati, combinata con il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che si protrae ormai da anni, crea difficoltà enormi. Reparti carenti di personale, liste di attese infinite, sempre più abruzzesi che vanno a curarsi fuori regione. Mastromauro dunque batte il pugno anche sul dramma personale delle famiglie dei 14 lavoratori licenziati, annunciando che porterà la questione alla prossima riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci.